non vinta nessuno dai non andiamo tutti su parola ok ragazzi lui mi prende il suo posto vai vai mi ho prenduto la difesa vai andate su questa prima palla messa in mezzo ah l'ho lasciato io attenzione tranquilli ci vedo io vai ora spaventiamo siete voi due su sono io dietro e voi due su vai andate in mezzo ci siete? vai si fanno tu si può sbagliare in quella porta vuota oh io non so ma bravo con i peli vai l'altra palla l'ho messo vai vai grande sera dai dai continuiamo così non andiamo tutti su parola vai 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 se andavo piano la potevamo prendere quindi ci sono andato io se non è iniziale bloccala lì dove stai? stai facendo bella questa no ci arrivo non ci arrivo più vai io sono dietro rimane le testo rimane le testo rimane le testo questo è bravo così bello bello che traversa che traversa vai nini ci ci puoi dietro mi sta allargando vai ci sono io ma si fa ancora vai zi rimane tu ti tratti che sei esploso vado di su ve la fate? mi ha aperto troppo vai zi sali che mi cadeva con te la difesa vai no 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 sono io su eh ora sono vai lì tu non capisco perché ogni tanto mi lagga sono io giù dove vuole andarti ma niente ti lascia passata vamo devo passare non basta però sono io indietro bravo vai stefan ti riesci? non riesco non riesco vai zi prendiamo l'età vai vai mettimi in mezzo io sono indietro vai bella però troppo alta eh eh sì sì è perché ho capito a lui tocca a gambe vai vai sto salendo no ho riusciato qualcuno che riesce eh no siamo finiti tutti e tre ma ci sono i primi errori che abbiamo fatto ci hanno punito siamo soliti tutti e tre e ci hanno fatto gol ma la smettono di scrivere ma ignoro ma io sono giù siete voi due ma che cazzo mamma mia perché l'ho tirato ma che l'ho tirato e c'era tipo una cosa che non mi faceva andare avanti bella andiamo su gi va vai andiamo in dettaglio va ok provo vai ci sono ci sono bella 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 questa bella bella palla vede 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 vai siete voi due su vai mi uno mi spinge questo è un figlio ok bravo ok no attenzione turbo grandemi tutti qua tutti a pressare solo stigola via ok vai ah sono rimessa vai te così si stigola non lo prendi stigola eh no non ci voleva questo pareggio guarda come l'ha messa la palla di culo l'ha messa non l'avevo troppo qui si è difesa esatto vai andiamo in dettaglio ok sto andando anch'io ho sbagliato vai siamo soli c'è solo uno bello è la palla è andata tutta sulla traversa no incredibile vai di nuovo bello 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 no 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 non si può è incredibile non ho sbagliato qua vai vai zio che la ricicla ci andiamo supplementari se riesci a mettermi nel mezzo ci sono eh provo io eh l'ho presa lui attenzione stai una parte fare con l'ultimo non lo fanno ah niente mannaggia con l'azione io zio in attacco io zio in attacco no certo fai veni con me eh no eh no ecco questo non ci voleva bene eh no no l'ha detto per diritto è in attacco ma stava me l'ha tolto tutto e se toccarlo adesso ci provo lascia ecco mi ha toccato vai giù vai giù se vanno mamma mia mamma mia ragazzi vai lì sei solo no 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 dobbiamo giocare il cielo così buona vai ragazzi questa partita è una ventona vai